Con la vittoria per 2-1 al penso sul Catanzaro, il Venezia Football Club consolida il secondo posto in classifica. Ieri sera grandi emozioni a Sant'Elena, dove prima della partita è stata ricordata, in modo commovente, Valeria Solesina, otto anni, dalle strage terroristiche del Batacan. Il vice sindaco di Venezia Andrea Tomello, con il general manager del Venezia Football Club Filippo Antonelli e il capitano Marco Modoro hanno deposto una coronda davanti alla taglia del settore distinti che porta il nome di Valeria. Per la famiglia Solesina era presente il fratello. A Tre Barancionero Verde e Mario Tesconi dell'Ida di Venezia, presieduta da Luigi Gino Punta, intanto si è avuta la conferma del grande entusiasmo che avvolge la squadra in questo momento d'oro. Milter Paolo Vanori e Antonelli sono stati premiati durante l'incontro con i tifosi dall'assessore Lidense Michele Zuin. Lavoriamo ogni giorno e, come ho detto ai ragazzi, dobbiamo concentrarsi partita per partita e poi, a fine di giro di andata, vediamo dove sarà il nostro posto e giustamente prepareranno il giro di andata. Intanto avete portato i tifosi al paese. Questa è, secondo me, la soddisfazione più grande. Quello che stiamo facendo è di vivere i club, di vivere la città, di cercare di essere più presensi nel territorio attraverso queste iniziative, è un segnale, è una presenza che va oltre il risultato, è una roba che dobbiamo portare avanti nel tempo e perché questi tifosi sappiamo che sono chi c'era il Venezia e sia che le cose vanno bene che le cose vanno bene. Il club del Lido sta crescendo sempre di più. Il calcio a Venezia in questo momento è una buona posizione. non diciamo altro, speriamo che continui sempre tutto così. Non poteva mancare un saluto finale in rima. Col bel tempo e coi marosi, sempre amici, sempre tifosi. È una fede, non un'inezia. Vogliamo grande il Venezia.